C'era da aspettarselo che Putin aggrediva anche i mezzi di informazione? Sì, già Napoleone aveva detto che cinque giornalisti erano molto più pericolosi di un plotone di soldati. Figuriamoci che cosa sta accadendo in questa guerra dove la verità la conosciamo soltanto a pezzi e dove le fake news sono entrate a pieno titolo, dove Putin ha deciso immediatamente di dare sanzioni ai giornalisti. Addirittura si parla di 45 mila euro per i giornalisti che non seguono la linea del Cremlino e un arresto fino a 15 anni di reclusione. Bloccato anche Facebook, bloccati social network. Ormai è difficilissimo conoscere qualcosa che sia diverso dal pensiero di Putin. E persino la stessa definizione di fake news è cambiata. Noi abbiamo provato scientificamente a dimostrare come una notizia falsa, trasformata in verosimile, può essere credibile e creduta. Ma Putin ha naturalmente sconfessato tutto quello che disattende le sue aspettative e ha fatto passare l'idea che tutto quello che non viene dalle sue fonti è naturalmente una fake news. Davvero molto pericoloso quello che sta accadendo. L'ordine dei giornalisti italiano ha cercato di far sapere che tutto quello che sta accadendo è terribile. È un attacco violentissimo alla democrazia che non ci possiamo completamente permettere.